Il titolo del film è L'Italia chiamò ed è un film che parla dei militari italiani che si sono ammalati di tumore a causa dell'esposizione a Oranio impoverito nelle zone di guerra. Come mai è nato questo interesse? Da che cosa è nato? Avete avuto delle esperienze personali oppure un interesse di tipo sociale, di tipo intellettuale? È nato guardando le cifre. Ci sono in Italia 2500 soldati che si sono ammalati e 166 adesso che sono già morti. A noi questo faceva abbastanza indignare. Comunque ci incuriosiva il fatto che sulla stampa nazionale se ne parlasse poco e ci interessava raccontare le storie di alcuni di questi soldati e incrociarle fra loro e far vedere che cosa resta dopo anche il ritorno a casa. Come mai secondo te se ne parla poco sulla stampa, in televisione ancora men che meno? Se ne parla poco perché è un argomento scomodo che coinvolge responsabilità soprattutto omissioni da parte dell'esercito, dello Stato Maggiore dell'esercito e quindi credo che sia un argomento difficile perché coinvolge alti vertici militari, alti vertici della politica e appunto non dico censure quanto piuttosto omissioni. Infatti il nostro lavoro vuole parlare soprattutto di quei soldati che non chiedevano di non essere inviati in missione ma anzi che volevano svolgere il loro lavoro da professionisti ma che non sono stati messi nelle condizioni ideali per svolgerlo. Volevo aggiungere a quello che hai detto prima che Matteo che ci interessavano proprio le storie, non tanto parlare dell'argomento da un punto di vista tecnico ma a raccontare che cosa avviene nelle case, nelle famiglie di tutti questi soldati una volta che il militare torna a casa ammalato dopo un'esposizione in terreni contaminati e dopo aver incontrato una malattia che è gravissima. E' rarissima. E' rarissima. Cioè dovrebbe essere rarissima. Dal punto di vista emotivo, durante la preparazione di questo documentario che cosa vi ha smosso, che cosa hai provato, avete provato? Beh, sicuramente emozione nel fatto di rapportarsi con i diretti interessati come è stato possibile perché c'è una storia che è raccontata dal padre visto che il figlio è morto mentre gli altri casi sono casi comunque di militari che sono riusciti per il momento a guarire anche se per il momento dobbiamo aggiungerlo perché c'è un periodo finestra nel quale è possibile che torni ad affacciarsi la malattia. E' una forte emozione soprattutto nel lavoro che è quello di preparazione che non si vede evidentemente nel documentario che quando vai a cercarti le storie, a parlare con i parenti alcune storie non ci sono perché alcuni parenti non hanno voluto raccontarle e questo non perché non avessero interesse nel diffondere la loro storia ma anche per rispetto, per esempio, al proprio figlio che ha opposto, per esempio, un diniego. E su questo non c'era molto da né storcere il naso né da comportarsi, diciamo, da rapacci giornalisti o comunicatori anche perché c'era invece un profondo rispetto che nasceva proprio anche dal vedere in faccia questi genitori che sono lasciati assolutamente soli dal punto di vista economico che sembra una cosa tecnica ma in realtà è una cosa che modifica le vite ed è essenziale. E poi sono lasciati solo anche dal punto di vista psicologico ed emotivo a loro volta, nel senso che non hanno dei punti di riferimento se non l'osservatorio militare, se non altri personaggi anche molto conosciuti che però lo fanno in silenzio, quindi non li cito, che mettono a disposizione anche delle risorse economiche per permettere questi esami che sono molto costosi. Avete qualche cosa in particolare che volete sottolineare o fare in modo che la gente comunque noti vedendo il vostro filmato? Una cosa politica se vogliamo, nel senso che senza dover distinguere per forza visto che parliamo dello Stato e lo Stato di per sé anche se è letto da maggioranza di colori diversi secondo le votazioni democratiche bisogna capire però di che cosa stiamo parlando in questo caso. Sappiamo che, e lo verrà detto anche questa sera, ci sono dei soldi stanziati nella finanziaria che non vengono distribuiti perché mancano regolamenti attuativi per dare risarcimenti, ci sono cause di servizio che non vengono passate in giudicato e c'è soprattutto un silenzio per cui la domanda è all'attuale Ministro visto che quello di prima era quello che ha scatenato il nostro interesse col balletto delle cifre sui morti e che cosa intende fare il Ministro della Russa per esempio che poi ricordiamo manda i militari per la sicurezza nelle città e via dicendo, ha sempre parole di elogio ma cosa intende fare per 2.500 e passa soldati che sono ammalati cosa intende fare per 166 famiglie che hanno perso un figlio in questa maniera? Una domanda molto interessante e molto stimolante credo per tutti i cittadini forse bisognerebbe parlarne anche un pochettino più dal punto di vista clinico dal punto di vista tecnico ma questo forse potrebbe creare il panico pensate, vogliamo essere buoni con i politici che vi sia anche questa causale che in qualche modo agisce da muro perché passino queste informazioni non creare il panico nella popolazione Ma questo non è un argomento né di destra né di sinistra si tratterebbe di mettere anche un po' fine a questo balletto delle cifre che secondo noi è abbastanza anche poco decoroso insomma, almeno con lo Stato Maggiore della Difesa riuscire a trovare un punto di incontro su questo sarebbe già un passo in avanti per quanto riguarda i risarcimenti all'estero i militari che hanno partecipato ad azioni in teatri di guerra bombardati con il proiettile di urano impoverito ricevono già risarcimenti e quindi non c'è un problema da questo punto di vista americani, francesi, inglesi firmano contratti proprio di ingaggio in cui si prevede che in caso di alcuni rischi tra cui questo il militare venga trattato in un certo modo e anche risarcito ecco, almeno che ci siano i risarcimenti e che anche, soprattutto la politica non si dimentichi non metta un po' sotto il tappeto questo problema ma riesca a trovare un punto di... insomma, faccio un passino avanti Sì, soprattutto vedendo anche quello che è stato fatto negli altri paesi perché nel nostro documentario si vedono due momenti interessanti secondo me che sono uno è il video prodotto dall'esercito americano in cui si mettono in avviso i militari dal pericolo dell'uranio impoverito e si danno istruzioni per proteggersi dall'uranio impoverito due, una serie di immagini molto più recenti in cui si mostrano i soldati americani protetti da tute, indumenti che appunto tutelano il militare da questi rischi per cui tornando alla tua domanda iniziale a me stupisce il fatto che non si faccia tesoro di quanto hanno fatto altri paesi in particolare gli Stati Uniti Beh, non stupisce per niente comunque l'ultima cosa poi vi lascio andare no, parlavo di panico in quanto cioè questo è un rischio a livello ambientale perché poi voglio dire questi soldati ci hanno lasciato le penne o comunque sono ammalati però voglio dire tutti noi non siamo proprio così al di fuori della situazione perché voi sapete benissimo che l'uranio impoverito è una particella che comunque voglio dire nell'ambiente ci gode e ci sguazza parecchio e quindi gli alimenti che noi consumiamo l'aria che respiriamo comunque insomma non credo che non credo altre persone poi questa sera tra i relatori che entra insomma interviene sulla catena alimentare anche però poi c'è anche il problema delle popolazioni civili che abitano i teatri di guerra insomma basta pensare le popolazioni attorno a Sarajevo ci sono degli studi che sono stati fatti abbastanza anche credo oggettivi non pugnabili perché ci sono scienziati che sono andati con rilevatori che hanno misurato un grado di radiazione nettamente superiore e sufficiente a provocare delle malattie e delle malformazioni grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti